Maria Gabriella Branca candidata per AWS alle prossime elezioni regionali. Si parla di infrastrutture come uno dei punti dei nodi più critici della nostra regione perché limita i collegamenti con ripercussioni economiche sia per quello che riguarda l'industria, la portualità e il turismo? Sì, sicuramente la criticità maggiore della nostra Niburia proprio perché è una lingua di terra con delle difficoltà dal punto di vista obiettivo per come è realizzata. Abbiamo il tema delle autostrade, code infinite per raggiungere anche città che sono molto vicine tra loro. Abbiamo il tema dei pendolari che hanno soprattutto in quest'ultimo periodo di tempo subito dei ritardi anche di due o tre ore e che creano davvero delle difficoltà enormi. Quindi riteniamo che sia necessario predisegnare un piano strategico complessivo che deve però avere riguardo a tutte e tre gli aspetti del nostro territorio, quindi le infrastrutture autostradali ma anche marittime ma anche ferroviarie perché la Liguria è in una posizione assolutamente nodale sia rispetto al resto d'Europa, sia rispetto al Piemonte, sia rispetto alla Lombardia e quindi razionalizzare il traffico di merci e persone è un obiettivo fondamentale. L'esempio della digitalizzazione affrontato dal Comune di Savona può essere un esempio esportabile? Io credo di sì perché appunto il nostro Comune ha investito oltre 2 milioni di euro solo nei progetti PNR proprio per portare avanti la digitalizzazione e non solo poter avvicinare il cittadino a quelli che sono tutti i servizi del Comune. Occorre soprattutto facilitare l'accesso dei cittadini per il disbrigo di pratiche che molte volte sono anche semplici.